Continuiamo con il MySQL Nella lezione precedente abbiamo visto che HPMyAdmin è un'utilità per creare codice SQL Structured Query Language Questo codice SQL viene inviato al DBMS Database Management System e il DBMS lo usa per manipolare i database In questa lezione invece creeremo un nuovo database e una tabella al suo interno Prima di creare il database vediamo che nome possono avere i database I database e le tabelle non devono avere slash, backslash e i punti e possono avere qualunque altro carattere e un massimo di 64 caratteri Torniamo a phpMyAdmin Creiamo un nuovo database per esempio chiamato fabwebsite come il sito creato in precedenza da me nel videocorso precedente la collocazione utfgeneralci che è in fondo e anche qua la connessione di MySQL utfgeneralci spingiamo su crea ecco il codice SQL create database default char set utf8 collate utf8 generalci e adesso phpMyAdmin ci propone di creare una nuova tabella nel database fabwebsite il nome sappiamo già come si crea e il numero di campi invece è una cosa sconosciuta i campi vi ricordate sono le colonne della tabella e le colonne devono avere un nome significativo per il dato che sta nella riga quindi noi dovremmo trasportare al nostro database tutto questo testo qui questo titolo qua che sarà uguale al title qua sopra per esempio in questa pagina no nulla e nulla e quindi sono due campi poi se andiamo a vedere il codice sorgente avremo bisogno dei keywords che per ogni pagina sono diversi dei meta keywords e dei meta description e quindi sono quattro campi quattro campi ma non è tutto perché avremo bisogno di un ID che vi consiglio di mettere in tutte le tabelle è un identificatore che facilita le interrogazioni al database e poi scriveremo il nome della pagina che vediamo qua senza .html andiamo a creare questo database chiamiamolo page text il numero di campi 6 eseguiamo qui vediamo campo, tipo, lunghezza, definito eccetera adesso creiamo il campo ID e io vi spiego cosa corrisponde a cosa beh, qui dobbiamo inserire il nome del campo qui il tipo di dato per adesso mettiamo l'integer che è un numero intero e la lunghezza 2 lunghezza 2 vuol dire che ci saranno massimo due cifre nel senso 99 in questo caso in questo 999 e così via dopo iniziano i modificatori e noi abbiamo bisogno di un indice primari e del AI che sta a dire auto-increment torniamo indietro e andiamo a vedere quali sono i tipi di dati e i modificatori i tipi di dati principali sono int, decimal, timestamp, war, char, char e text int sarebbe integer un numero intero con la lunghezza length abbiamo visto prima abbiamo messo 2 decimal è un numero decimale con un numero di cifre a sinistra che sta width e un numero di cifre a destra che sta a decimal digits il timestamp memorizza la data della creazione della tabella il war, char e char memorizzano stringhe si assomigliano molto l'unica differenza è che war, char ha un massimo numero di lettere uguale a length e char invece ha un numero fisso di lettere uguale a length quindi se noi a war, char li impostiamo 5 possiamo scrivere anche meno lettere ma non di più al char se invece li scriviamo 5 dobbiamo scrivere per forza 5 e text che viene usato per memorizzare testi lunghi adesso vediamo i modificatori i principali sono not null default e auto increment prima di key ho detto è tra loro due perché molte volte si usano combinati not null non non permette di registrare un campo vuoto una riga vuota per il campo e default sostituisce il vuoto con un valore di default auto increment invece incrementa di 1 l'identificatore se prima avevamo due righe che hanno l'identificatore 1 e 2 la prossima riga sarà di 3 la prossima ancora di 4 e così via questa è una funzione proprietaria di MySQL ma anche altri server per database fanno qualcosa del genere primary chiave primaria fa in modo che un numero di un determinato campo non si ripeta mai quindi noi l'abbiamo selezionato per l'id e quindi non avremo mai due righe con l'id uguale torniamo a phpMyAdmin e completiamo gli altri campi il prossimo campo sarà page name varchar 32 e da qua in poi avremo tutti i tipi di text perché per esempio per page title noi abbiamo bisogno di un testo abbastanza lungo a volte molto lungo questo testo del title per page text c'è da mettere text per forza poi abbiamo i meta key che moltissime volte i keywords della pagina sono numerosi c'è da scrivere molto testo e il meta description meta des ne ha anche da mettere text commenti sulla tabella non ne mettiamo il motore di memorizzazione MyISAM la collocazione UTF General CI premiamo su salva oppure se vogliamo aggiungere un nuovo campo perché non abbiamo calcolato bene i campi di cui avevamo bisogno possiamo spingere esegui e se ne creare uno nuovo salvando si crea il codice SQL creatable fabwebsite cioè nella database fabwebsite con il nome page text eccola qui poi come vedete PHPMyAdmin ha aggiunto il modificatore not null a tutti i nostri campi ecco il tipo di dato la lunghezza dove ci deve essere il modificatore auto increment e prima di key a questo punto concludo nella prossima lezione inseriremo i dati copiandoli dalle nostre pagine più tardi ancora vedremo come usare il SQL con il PHP copi